professor fucile studiare i neuroni di un paziente partendo dalle sue cellule staminali che prospettive si aprono con questo lavoro scientifico si aprono delle molto interessanti prospettive in quanto abbiamo la capacità di analizzare neuroni funzionali vivi quindi delle cellule che si comportano anche se in vitro in maniera diciamo analoga a quello che succede all'interno del cervello però senza dover prelevare questi neuroni direttamente dal paziente è una cosa molto interessante in questo lavoro per la prima volta qui al neuromed abbiamo fatto una caratterizzazione funzionale elettrofisiologica cioè siamo andati a mettere degli elettrodi che registrano correnti elettriche e potenziali elettrici su neuroni ottenuti da cellule staminali di pazienti adulti che si possono ottenere da cellule della pelle per esempio e questo consente di analizzare come funzionano dei neuroni che hanno delle alterazioni genetiche nel caso specifico c'era una proteina che altera la capacità di diciamo attivare un neurone che è un canale del sodio adesso senza entrare troppo nel dettaglio comunque e questa alterazione genetica risulta in una patologia epilettica nel paziente e noi abbiamo preso le cellule staminali adulte di questo paziente le abbiamo trasformate questo in collaborazione con l'università di cadanzaro in neuroni maturi e questi neuroni li abbiamo studiati qui nel nostro laboratorio e abbiamo osservato delle alterazioni funzionali che poi giustificano l'insorgere della della patologia questo chiaramente poi si può correlare con una ricerca di una terapia specifica più personalizzata più idonea per il singolo paziente il fatto di poter avere i neuroni di un paziente senza prelevarli ma ottenendoli da tessuti periferici in questo caso avrà delle ricadute sulla possibilità di ricerche su un numero maggiore di pazienti e anche su un futuro le possibili applicazioni terapeutiche assolutamente sì direi che è proprio una svolta per quanto riguarda il futuro nel senso che noi come centro di epilessia sperimentale qui del neuromed abbiamo sempre utilizzato tessuti prelevati da pazienti ma di derivazione chirurgica e alla chirurgia vanno pochissimi pazienti con l'epilessia pochissimi rispetto al grande numero di pazienti con l'epilessia tenga conto che di tutte le epilessie che si riscontrano in clinica noi sappiamo la causa vera dal punto di vista molecolare solo del 5 per cento la stragrande maggior parte delle epilessie ha una causa non nota invece con questo approccio diciamo noi siamo in grado di ampliare grandissimamente in maniera enorme la platea dei possibili pazienti che possono avere un'analisi funzionale perché possiamo trasformare le cellule della pelle i fibroblasti del derma in cellule neuronali e andare a vedere qual è l'alterazione funzionale che determina poi nel paziente singolo un'alterazione macroscopica che può dare insorgenza di crisi epilettiche chiaramente questo ci porta alla possibilità di fare terapie mirate e quello che sarà il futuro della della medicina personalizzata in vista di questo futuro che può essere più a medio o lungo termine in relazione anche delle complessità e dei costi di queste procedure quali saranno i vostri prossimi passi di ricerca? noi stiamo già lavorando in questa direzione nel senso di valutare funzionalmente quindi fare delle analisi dell'attivazione del tipo di funzionamento di neuroni diciamo da altri pazienti certamente ci stiamo attivando per reperire fondi in questa direzione e anche trasferire competenze nell'ottenimento dei neuroni qui in neuromed cosa che è molto importante perché le dicevo prima che praticamente i neuroni sono stati realizzati all'università di cananzaro nel gruppo del professore kuda e quello che andrà fatto che già in parte stiamo facendo in collaborazione con altri gruppi sempre del neuromed è di avere la capacità di produrre neuroni da cellule staminali dei pazienti qui al neuromed per poter lavorare sui nostri pazienti dal neuromed e avere un ciclo complessivo di analisi che va dalla clinica che è ottima la clinica a livello del la clinica neurologica del neuromed non lo devo neanche dire è di altissima qualità e questo diciamo questo sarà da interfacciare con la capacità del parco tecnologico di analizzare dal punto di vista cellulare e funzionale questi neuroni sempre più al dell'ammalo Grazie.